Mica roba da poco, a Valoari il colombiano Nairo Quintana taglia il traguardo da solo, mette la freccia e sorpassa il compagno Michel Landa. La tappa numero 18 del Tour de France 2019 è la sua, portata a casa con il miglior tempo di scalata del Galibier, 22 minuti e 23 secondi. Quintana guadagna 5 minuti e 18 secondi alla maglia gialla Juliana Lafilippe che fatica nel rush finale del Galibier ma si riprende. Il leader della classifica generale perde 32 secondi da Egan Bernal ma mantiene il primato sfruttando qualche sbavatura di troppo in casa Eneos, con Thomas che si è lanciato all'inseguimento del suo compagno di squadra. Un'altra giornata sulle Alpi attende adesso i corridori, in programma ci sarà la diciannovesima tappa da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes con percorso di 126,5 km.